E' spaventosamente facile sparire in Messico per immigrazione clandestina, per un sequestro a scopo di estorsione, per un omicidio compiuto dai narcos o dai poliziotti corrotti. Ogni giorno le cronache dai diversi stati della Confederazione sono pieni di notizie del genere. Una delle ultime viene da Tlacomulco, vicino alla città di Guadalajara, nello stato di Jalisco. Padre Juan Miguel Contreras Garcia, 33 anni, aveva appena finito la messa, ieri sera, nella chiesa parrocchiale di San Pio da Pietrelcina, quando è stato colpito a morte da un commando di uomini armati. Padre Juan Miguel aveva sostituito all'ultimo momento un altro prete che aveva subito minacce di morte. Già, perché in Messico molti religiosi, giornalisti e attivisti per i diritti umani sono diventati carne da macello, facili bersagli dei sicari dei cartelli della droga che imperversano. La dimensione del fenomeno è tale che ormai qualcuno definisce il Messico un narco-stato. Le vittime sono così tante che non si fa in tempo ad aggiornare le liste. Il corpo di padre Lucino Flores, 67 anni, di un villaggio vicino a Tepeaca, nello stato di Puebla, è stato ritrovato questa mattina. Era scompasso domenica scorsa. Mentre solo tre giorni fa era stato ucciso un altro prete non lontano da città del Messico. Il Centro Cattolico Multimedia fa sapere che sono 23 i preti uccisi in Messico durante i sei anni di presidenza di Enrique Pena Nieto. In questa testimonianza, quando era diacono, padre Juan Miguel ringraziava Dio per averlo scelto e diceva che il sacerdozio è riempire di luce il mondo. I vescovi del Messico hanno diffuso una dichiarazione piena di dolore per l'assassino di padre Juan Miguel e hanno lanciato un appello alla riconciliazione e alla pace, richiamando con forza le autorità a fare giustizia perché questi episodi non restino impuniti, come succede di solito purtroppo. I vescovi chiudono raccomandando la nazione alla Madonna di Guadalupe. Sotto il manto della Virga e Morenita c'è un popolo coperto di lacrime e sangue. Sotto il manto della Virga e Morenita c'è un popolo.